Giuseppe Rumore, Giuseppe Monticciolo, Alfonso Canzio, Niccolò Alongi, Paolo Lipuma, Croce Di Gangi, Paolo Mirmina, Giovanni Orcelli. Soprattutto perché la lotta alla mafia, come tutte le grandi battaglie, non può mai fermarsi. Noi cerchiamo di fare memoria di tutti coloro che abbiamo perduto in questa battaglia, sono i martiri del contratto alla mafia, sono nella stragrande maggioranza dei meridionali. Come la mafia è nata nel sud, così è il sud di avere generato gli anticorpi per combatterla. Il sud si sta battendo sempre con grandissimo coraggio e quindi Bari non poteva mancare oggi in questa giornata così importante e soprattutto in una giornata in cui vogliamo dare tutta la nostra solidarietà ai sindaci, agli amministratori che vengono minacciati e in particolare a Don Luigi Ciotti. Ho detto ieri che siamo tutti un po' sbirri, perché gli sbirri sono i nemici della mafia. È un insulto che viene utilizzato, contro di me l'hanno utilizzato tante volte quando svolgevo le funzioni di magistrato, però dobbiamo prendere atto che per fare in modo che questi insulti siano sempre meno utili, meno efficaci, dobbiamo distribuire questo compito di essere vedette contro la mafia, anche quando non siamo carabinieri, poliziotti, magistrati. Ecco, dobbiamo distribuirci questo compito e reagire secondo le regole che Don Luigi ci ha insegnato, quella dell'antimafia sociale, quella della responsabilità nell'esercizio delle nostre funzioni, qualunque esse siano, che marginalizzano la mafia e le tolgono il terreno di cultura.